Abbiamo sentito, è stato convocato per martedì pomeriggio il Consiglio dei Ministri che esaminerà il decreto sicurezza bis nel testo Limato, dopo i rilievi del Curinale, novità in tema di immigrazione e di tutela dell'ordine pubblico. Carlotta Tamberlich. Fonti del Viminale assicurano che sono stati superati tutti gli ostacoli del testo, sui quali anche il Presidente Mattarella aveva sollevato dubbi. Due le novità principali. La prima riguarda l'intervento sulle navi che transitano in acque italiane. La decisione verrà presa in modo collegiale coinvolgendo i Ministeri della Difesa e dei Trasporti, dopo aver sentito il parere del Presidente del Consiglio. Quest'ultimo riferimento era assente nel testo varato il 21 maggio. L'altra modifica riguarda il soccorso ai migranti. Nel nuovo testo sparisce ogni riferimento alle sanzioni per chi soccorre, mentre sono confermate le multe alle navi che non rispettano l'normativa internazionale. Da 10 a 50 mila euro al comandante e in caso di reiterazione del reato la confisca del natante con immediato sequestro cautelare. Il decreto prevede infine anche modifica la legge sull'ordine pubblico. Nel testo viene eliminata la pena della reclusione da 1 a 3 anni per chi ostacola i pubblici ufficiali durante le manifestazioni.